Adesso stiamo prendendo la 35 Esatto Ha bocciato, sono in tre e stanno scappando Ci sono tre persone a fondo Sì, hanno bocciato una macchina lì Sono in attenziale 188, terza stierra, andiamo sulla 35 verso 7 Ha bocciato due macchine Sono tutte e tre minori Sì Sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, sì Fermati qua Adesso arriva la polizia A lui Anche a lui Tu stai fermo, giù per terra Seduto Sì, si può fermare Sì, si arriva le mani Sì, è riuscita Sì, è riuscita Sto rientrando perché stanno scappando a piedi Allora stiamo rientrando Siamo in direzione No, il furgone è fermo in autostrada Lì è la tangenziale Stai fermo!